Buonasera, buonanotte cari amici, direi uno cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Ne parleremo, Vittorio Buongiorno, regista di un film che andrà in molte arene quest'estate. Qual è il titolo del film Vittorio? Si chiama Ask the Sand, che è di Alla Sabbia, che in We Change the Future è un sottotitolo e il protagonista è un giovane ragazzo che è mio figlio che si chiede sul futuro delle domande importanti. Ne parleremo, ne parleremo. Vittorio, Vittorio Buongiorno, titolo del film? Ask the Sand, Can We Change the Future? Un sottotitolo tradotto che vuol dire? Possiamo cambiare il futuro noi e chiediamo alla sabbia del deserto dell'Arizona. Non era più bello il titolo in italiano? Però abbiamo girato in Arizona, per cui tu vuoi fare l'americano, ci abbiamo provato un pochino, io sono siciliano per cui sono... Si vede in alcune arene, vero? Abbiamo esordito, sì, al Biografin Festival la settimana scorsa e cominciamo questo viaggio nelle arene. Ci hanno invitato anche gli ordini degli architetti di varie città, le università di architettura. Insomma, è una cosa molto emozionante perché il protagonista del film è mio figlio, che è un studente di architettura. Per i suoi 18 anni gli ho regalato questo viaggio un po' particolare, la ricerca dell'utopia di Paolo Soleri, che era un architetto italiano che ha vissuto tutta la vita in America, in Arizona, e ha costruito questa città-laboratorio... E quindi lei ha raccontato... Si, si chiama Arcosanti, questo posto da sogno, proprio per riprendere la nostra sigla. Fabrizio, invece io lo... Vittorio, Vittorio Buongiorno, lei fa il regista, ma come spettatore cinematografico che tipo di spettatore è? Che film sceglie come spettatore? Uno così, su due piedi, forse l'Angelo Sterminatore di Buñuel, otto e mezzo di Fellini, roba leggerina. Angela, lei invece? Chiama Vittorio, lei fa il regista? Io sono un americanofilo, purtroppo gioco contro. Il cinema italiano spesso è molto dogmatico, si fanno film perché è giusto farli, e sarebbe bello raccontare storie di pancia per il pubblico. Per me il pubblico è fondamentale, ho imparato studiando con gli sceneggiatori americani che il pubblico va conquistato fin dalla prima scena, va rispettato soprattutto. Fabrizio, lei come la pensa? Bisogna fare un lavoro sulle sceneggiature, secondo me, più approfondito. Dice sì, Vittorio dice sì. Fondamentale. Vero? Fondamentale. Che film vorrebbe vedere Margherita? Nel mio caso ho raccontato la storia di un padre e un figlio, per esempio ci sono delle storie che partono, possono sembrare piccole, che però diventano universali, e nel nostro caso appunto il nostro viaggio racconta questo rapporto padre-figlio, madre-figlio o figlia indifferente. Questo come regista.